Buonasera da Cuscina Bioevolutiva, oggi prepareremo un dessert crudista dedicato alla nostra amica Per quanto riguarda l'attrezzatura ci occorre un frullatore e un pela patate Per quanto riguarda gli ingredienti ci occorrono 70-80 grammi di anacardi reidratati, corrispondenti a un terzo di tazza 40 grammi di burro di cocco, corrispondenti a un quarto di tazza 80 millilitri di succo di limone, corrispondente a un quarto di tazza 4 cucchiai di succo d'agave raw, la scorza di due piccoli limoni oppure di un limone grande Un pizzico di curcuma e un pizzico di sale marino integrale Ed infine 2 cucchiai di acqua Priviamo i due limoni della scorza Facendo attenzione a non prelevare la parte bianca, quindi la sola parte gialla La preparazione è estremamente semplice Mettiamo a frullare assieme tutti gli ingredienti elencati Rulliamo via! Bene, abbiamo finito di frullare Come vedete il composto è assolutamente omogeneo Senza grumi Quindi siamo pronti per la presentazione Il lemon curd è pronto Consigliamo questo dessert In quanto estremamente semplice E di grande soddisfazione Ai neofiti del crudismo C'è veramente stupito È strepitoso Provatelo Buona cucina bioevolutiva a tutti E alla prossima videoricetta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti